Ciao a tutti! Oggi prepareremo i muffin alle carote. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di mandorle, carote, scorza d'arancia, uova, zucchero, farina di riso, sale, lievito per dolci vanigliato e aroma di arancia. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza d'arancia. Lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Trasferire in una ciotola. Senza lavare il boccale mettere le carote. Li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le uova ed il sale ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 5. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere lo zucchero. la farina di mandorle, la farina di riso, l'aroma di arancia e di lievito. ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 5. Trasferire in pirottini per muffin. cuocere in forno prescaldato statico a 160 gradi per 10 minuti. Successivamente alzare la temperatura del forno a 180 gradi e proseguire la cottura per altri 12-15 minuti. Fare sempre la prova a stecchino. i muffin sono cotti. Lasciamoli raffreddare, spolverizzare con zucchero a velo e servire. muffin alle carote. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie.